Vai Claudio! Vai Claudio! Sali! Sali che non c'è nessuno da marcare lì! Allargati! Fara gol Carlo! Bravo Carlo! Bravo Carlo! Sì, questo voglio! Senza fretta Isa, senza fretta! In avanti, in avanti, in avanti, in avanti! Eh ma non devi stare qui! È tuo! Dai! Dai Manu, dai! Forza! In avanti Manu, forza! Ok, non a caso, non a caso Mauro con il tuo esterno! Mauro! 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 Guarda cosa succede! Guarda cosa succede! Matteo! Manu, perché sei qua? Manu, perché sei qua? Vai! Bravo! Claudio, pronto! Claudio, pronto! Manu, la posizione! Matteo, piccoli! Manu! Vai! 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 Dai, dai! Bravo! Bene! Va bene! Dai Carlo, dai Carlo! Giocamela c'è! Giocamela c'è! Claudio, pronto! Manu, davanti al quattro! Manu, davanti al quattro! Davanti al quattro! Davanti al quattro! Manu! Manu! Devi essere più indietro lì! Vai il tuo! Dai! Manu, ma qual è la tua posizione? Bravo Jack! Manu! Dove devi giocare! Lo sai o no? Difensore basso di sinistra! Manu! Eh? No! 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 Fatti vedere! Fatti vedere! Non fermi! Bravo! Eccola! Ok! Vediamoci bene! Fatti vedere Matte! Fatti! Dai raga eh! Casasso! Forza! Ricchi! Troppo su! Vai dai Vito! Vai Ricchi! Vai Ricchi! Continua! Vito! 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 Mettiamoci bene! Guarda tutti! C'è una corsa! Dai 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 chiudiamo! Bravo Isa! Dai Manu! Guarda tutti! Dai Claudio! Corri Claudio! Dai! Davide è spesso libero! Dai Davide! Bravo! Bravo Davide! Bravo Davide! Bravo Davide! Registioni! Veloce! Ehi! Ehi! Allora! Un bimbo! Bravissimo! Dai Andra! Bravo Jack! Palli! 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 P이나! Guarda tutti! Issi sempre là! Guarda tutti! Guarda su! è rischiato ma Don Andrea non permette stop meglio David va bene dai dai due dai ragazzi dai dai bene faccio sciottarti la ragazza in area dai ragazzi dai David dai David duro facevo devi dare la prima quindi devi riferire prima di quella palla vuben dai vuben gira veloce 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 dai 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 ragazzi va bene dai dai ricchi vai ricchi vai ricchi continua continua vai vai manu tu al centro manu manu dai no manu uno non metti lo spazio per Andrea che era solo non lo sapi tu non lo spazio per Andrea davanti al portiere non solo non metti il raso perro davanti lui fa gol ok ok guarda tutti dai David forza Adriano Issa 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 il retro passaggio ce l'hai tranquillo non te la puoi rubare stoppala sempre sul retro passaggio tranquillo vai raga va bene va bene va bene si si fa guarda tutti guarda tutti quando fai fallo chiamala lo sai è la sua è la sua e tira giù vai veloce andiamoci bene veloce gioca 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 veloce no fermi starlo starlo stai di nuovo stai di nuovo stai con intelligenza ci sai da qua rubiamo vai 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 Claudio vai Claudio vai Ricchi bravo Ricchi continua continua bravissimo, bravo, Manu! Manu! Manu, manu! Manu, manu! Manu, manu! Prima del corpo! Matte tu Alessi, esatto! Dai! Dai! Forza, dai! Forza, dai! Fil, Francesco, per Fil, dai! 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 Dai Fil, dai Fil! Massa, Laura! Ok, Claudio pronto eh? Dai, dai Fil! Dai, dai! Vai, di qua! Manu! Vai, Franci! Vai, Genera! Bravo! Manu! Si puoi salire, ma... Franci! Qual è il suo piede forte? Sì, da che parte erano sempre? In avanti! Dobbiamo ragionare! Si, 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 si! Si, 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 si! Mi scusa! Ehi, eh! Si, si! Fran... 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 bravo isa buona isa occhio a occhio a occhio e non aspettare la palla manu mauro dove è il tuo uomo? allora dove stiamo noi? Giacco occhio a mezzo all'area mauro dove è il tuo uomo? ma anche tu mi sei malo però buona a tutti buona a tutti isa non ce l'ho Giacomo non lo stiamo più facendo dai Claudio bravo Claudio manu torna va bene dai dai che ragiona tutto facile si 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 bravo 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 buona 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 forza dai Rubi dai Rubi va bene va bene bravo vai va bene dai Claudio fuori 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 o no france france fuori o no raga pulizione per noi forza dai dai ragazzi dai forza vai matteo dai isa è punizione lì ecco prima dai manu veloce gioca vai riccardo continua riccardo prossima volta dai david dai david dai matteo dai dai casarsa forza eh va bene dai riccardo bravo riccardo dai 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 su riccardo dai 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 su riccardo bravi bravi dai va bene vai riccardo bravo isa sacro grazie 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 grazie